bene ragazzi eccoci con un nuovo video di super robot wars tirti allora nell'altro che avevamo fatto una missione normale e dopo ci è successo sto casino che stiamo in modalità emergenza e mo spero di non aver sbagliato a zomparmi le altre missioni e magari devo farle così in un certo modo cosa che non ho fatto e mo mi attacco voglio dire di andare avanti con la storia principale per vedere se ci ritroviamo con le altre missioni precedenti sennò mi sa che devo tornare indietro al sabotaggio e vedere un po' quindi l'arma strategica dei zandoscur questo calaisi grazie mi sa che gli hanno potenziato il robottone di uso quindi se falliamo zoskara attaccherà direttamente la terra è la nostra unica scelta altri due tizi che si uniscono come supporte ma non ci vedo tanta trama l'emergenza proprio non la vedo bisogna vedere magari la missione se per sé è più difficile stesso che in a b allora dovremmo comunque utilizzare gente che sta nello spazio questi non stanno nello spazio c'è qualcuno che sta a 30 ah si questo era morto è un'altra missione che avevo fatto quindi e io vado a priori o quelli bassi che devo fa 25 com'è così basso questo non l'ho cagato fino e mo' è una tragedia non è possibile vabbè è una svista non la sono dimenticato così allora 32 32 32 allora io devo mettere quella che mi ricarica dov'è? eh questa assolutamente mi ricarica oh senti facciamo questi qua degli spazi allora manca uno manca uno ma mettiamo orioma dai ci posso pensare che quello sta a 28 ma che è sta a disposizione a capa di cavolo? ok ok questa è l'arma ok ovviamente è difesa fino alla unesimo potenza ok vediamo questo di ok il Gundam suite 5 ok vediamo questo di oh oh questo chi è? ah ok è uno di quelli metallari ok 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 è uno di quelli metallari ok ah grande sponda il nemico grazie eh sì abbatti il nemico in 6 turni ma veramente? lo dico seriamente? no no fammi salvare impossibile che c'è avvi in 6 turni ma vedi quanto sono? oh ziti allora questi quanto stanno? 32 ok più o meno come livello ci siamo ci metterò una vita ad ammazzarli tutti eh? infatti non ci arrivo eh questi sbaglio io a portarmeli ma mi sembra sempre uguale comunque questo forse alla fine di questo lo potenziano c'è la fine di questa missione? non va carino il fondo dietro carino il fondo dietro carino il fondo dietro che mi so YE è che seco assicurati nulla stit che non sì 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 non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma io vorrei sapere come faremo ad ammazzarli tutti questi, non si sa. Ehi, fanno tutti attaccare la lontano. Non si muovono mica? Mè... Grazie a tutti. 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 Ma è proprio difficile. Allora... Grazie a tutti. 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 Non ne abbassavano quante ce ne sono. Ah, è arrivato il nemico. Ok, quindi quelli che sono entrati in moni non li dovremmo uccidere perché sono una specie di alleati, questi qua. Obba. Cazzo. Ma questo mi serve? Mi sono pura. Ok. Ma questo aveva una sputacchia di vita. Grazie. 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 No, li ho finiti gli attacchi ormai. Hmm Grazie 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 Questo non l'avevo calcolato? Che le navi possono fare attacchi Attacchi Multipli Ok Grazie 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 Ma che scatole Dobbiamo far fuori le navi assolutamente Ma ci sta attaccando Perché dovremmo attaccare? Ma perché mo ci attaccano? Ma perché Ma perché Scusate 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 Non devono essere abbattuti Non devono essere abbattuti Aspetta Aspetta Non devono essere abbattuti Aspetta Non devono essere abbattuti Non devono essere abbattuti Non devono essere abbattuti Non devono essere abbattuti Ma che cosa Ma perché Perché stiamo troppo vicini Se la pigliano con noi Perché sono Atumi Facciamo mettere il più lontano possibile Grazie 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 Mamma mia Uno sputo Grazie 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 così E' orribile Questo attacco Ok Allora Quando fuori questo E questo qui Ok. Hmm. No, adesso ho riuscito a ammatterlo. Palle. 32, 33. Ehi, 49. Ma... L'ho ammazzato. Che cazzo, non ho visto niente. Una coglione. Una coglione. Ho fatto una mica cacata. Una coglione. Una coglione. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. Ok, quindi... Grazie a tutti. Grazie a tutti.